La Regione Campania sostiene la prevenzione con Mi Voglio Bene. Mi Voglio Bene è un programma di controlli gratuiti per donne e uomini. Sono disponibili tre esami che consentono la prevenzione del carcinoma alla mammella, al colon retto, al collo dell'utero. La mammografia consente di individuare nodule al seno non ancora palpabili. È un esame radiografico del tutto innocuo. Può essere effettuato gratuitamente dalle donne tra i 45 e i 69 anni, nelle Asla Caserta, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud e Napoli 1 Centro, come da DCA 38 2016. E dalle donne tra i 50 e i 69 anni, nelle Asla Avellino, Benevento e Salerno. Va ripetuto ogni due anni. Nelle Asla Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud e Caserta, la Regione Campania rivolgerà alle giovani donne un programma dedicato. Un programma per promuovere la cultura della prevenzione in epoca pre-screening. Mi Voglio Bene. Prevenire mi salva la vita. Aderisci al programma. Rivolgiti alla tua Asla. Informati sul sito web screening.regione.campania.it Piano finanziato ai sensi del Decreto 38 2016 Revolgiti alla Transparencia Corbine Permanente Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Fai il decreto 16. 14- quattro 16-6-6-6-6-6-6-6-6-6. Grazie a tutti.